dimostraggio snob dai buon posto da non ci vedo madame siamo 3 team che vanno a ste case qui possibile mi chiede mi ruba la mia casa donna mia solo rubare sono si è un botto di gente vieni alla gara qui sto a casa 3 carni ok così dentro questa casa c'è qualcosa di buono no a ti pareva davvero buono io a r verde buono prendere qui tutte le scatole di munizioni che danno buona roba ok oh si stanno sparando tra di loro potremmo anche provare a da andare lì da loro da sciacallare così loro sono già tutti feriti noi li ammazziamo e' a kill provo ad andare lì da dietro oh la balestra knock out ah l'ho vissuta qui aspetta oh oh immortal e dai eh oh dai ho fatto hatch 860 di danno uh ancora qui il balestra buono dai lo faccio così dai vai prendo la slurfo si ho 100 di vita ehm che tu porta i medikit ok se no li porto io no bene mi prende qui tutto non si butta niente ok ok andiamo in safe bisogna tostra tanto tipo cubito con sto arco cioè poi vedi è tutto anche un po' rosa molto bene guarda cioè è proprio bello quando puoi spara vedi così con i cuori proprio bello anche se è cubito una volta cioè aveva l'arco eh però da qualche ricordo profilo c'è l'arco eh appunto però dai no oddio perché non ho perso vita andiamo a vado in safe ma ti aspetto intanto prendo un po' di materiali mh qui cosa c'è legno scudo dai tu lascio a te ah beh ok oh sono ringiovanito buono noi troviamo anche la shag yag voglio un ultimo lo voglio killare con la balestra cioè me la tengo se ci arriviamo ah beh io spero speriamo sì guarda siamo 29 in vita sì dai andiamo un po' farci una partitella io so l'inter tour la roma siamo pure in safe guarda vai 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 chi vincerà oh oh no no questo dio si è trasformato in un gameplay di fortnite in oddio guarda come rimbalza oh no ho sbagliato porta e corri dov'è oh mio dio dove è scomparsa ah ok oddio oddio fa rumore stranissimo vai tiki taka no oh 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 no oh mio dio quel canale è assurdo ora ci vengono ad ammazzare eccolo parte contropiede vai vai oh no oddio no no vabbè eh questa guarda oddio chi è mi ha fatto via il colpo oddio oh cosa c'è lì c'è la sloop vediamo un po' se riesco a fare la porta vuota non parte no ok è palo qua fortuna anche c'ho yeah gol oh oh esulto pure io buono qui cosa c'è oh buono sto pompa blu non l'avevamo visto ma sta zona è proprio luttaria non andrei anche a luttare altre casette ma vi auguro da nuovo scucio secondo me la balestra serve si o è rimpiazza il cecchino oh dietro di me no guarda come ci sparano ci spariamo palle di neve cioè si palle di neve dar di col cuore oh funi funi oh oddio buono no buono che abbiamo fatto wow usati la chug jug va vai si 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 vai 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 vedi la chug jug è tutto io mi prendo i mini scudi come piccolo trofeo diciamo c'è un cecchino ma oh chi è che spara no dai ancora quelli ma voi proprio non si ostinano a non starsi fermi eh così è d'assurdo buono facciamoci anche un fortino io so cecchino pure sì a me vai m'è anche un lavoro di mille per professione ma ho detto oh funi qui davanti facciamoci un piccolo forte forte qui dai facciamocelo di mattoni facciamo ok facciamo facciamocelo prolunghiamolo un po' C'è uno cielo futuristico va Uh siamo pure in safe Allora facciamolo a questo punto di metallo va Vai ricopro tutto così di metallo Bello bello Ok Però adesso l'ho finito quindi si va di Legno e mattoni Ok C'è qualche trappola da mettere in me in giro Oh abbiamo la reddrop qui Ok Ho fatto questo ponte un po' così Casissimo No l'ho finito C'è certo ho già date tutte e 16 Beh qui c'è l'airdrop lo proviamo ad aprire magari da qualcosa di buono Facciamo Facciamo Provo Intanto che magari qualche cosa cade Che è caduta Uh mitraglione è buono eh Da prima prendo questo e me lo bevo Ah vabbè sono più scudi Tieni Funni Ti do questo Ti do uno Tieni Io intanto mi bevo questo Prendo il mitraglione che è molto utile anche visto che non ho un lanciarazzi Funni ci sta qui uno scudo Funni dietro di te qui E' muni Sì hai muni piccole Grazie Guardali tutti lì Oh muro come si scontrano tra di loro Buono siamo ancora insieme Fusi Spacca il edito Spacca il edito Sì sì Mamma mi sento troppo tipo terminito Si muovono Uh stiamo solo contro di loro eh Ok Mi tengo anche un po' di munizioni me le tengo Vediamo un po' dove sono Ah ecco lì lì Guarda Dio No più alto Dovevo farlo Oh non sono in safe Siamo Tatticamente In un punto migliore Non ci credo Mannaggia Eh non è invisibile Apetta ho il medica Sono anche i miei scudi Ti dico se vengono Cioè se si smuovono da lì Non so prendere qualcosa Si 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 Aspetta Eh si ok si sono fatte un fortino C'è Aspetta aspetta che mi curo Stanno sopra Aspetta Aspetta che mi curo Aspetta Aspetta Che mi curavo Non mi vivevano E neanche Poi che Non mi metta Cui No Cioè 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 Due Cioè Venti è buonissima Mamma mia Venti è buonissima